Ha aggredito brutalmente un coetaneo all'uscita dalla discoteca con pugni e spintoni sino a che la vittima è caduta a terra perdendo i sensi. Una serata di svago e divertimento in una discoteca del Casentino poteva così trasformarsi in un'autentica tragedia. Nella notte tra sabato e domenica e attorno alle 4, infatti, i carabinieri sono intervenuti per quella che sembrava inizialmente una rissa, ma di fatto si è rivelata un'aggressione mirata brutale ai danni di un 23enne casentinese. Il giovane è stato dapprima spintonato, poi colpito e infine è caduto a terra perdendo i sensi. Immediato l'arrivo di due pattuglie e dell'ambulanza, il giovane è stato trasportato in codice rosso a Siena per un sospetto trauma cranico. I militari hanno poi immediatamente identificato numerosi testimoni e, in base alle prime dichiarazioni, il responsabile dell'aggressione, che è stato portato in caserma per essere fotosegnalato e denunciato per il reato di lesioni personali, nei guai è così finito un 19enne del posto con diversi piccoli precedenti alle spalle per reati contro la persona e lo spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Bibiena l'avevano infatti già denunciato, assieme ad un altro ragazzo, per due episodi analoghi, accaduti nel giugno 2019 a Prato Vecchio Stia e prima ancora nell'estate 2018 a Partina di Bibiena. Al vaglio degli inquirenti adesso quindi anche l'ipotesi di scontri tra gang. La vittima è già stata rimessa dall'ospedale senese, fortunatamente è fuori pericolo.